Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24, la cronaca in apertura, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha intercettato al porto di Bari un camion che trasportava banconote non dichiarate pronto a partire per l'Albania. Oltre 162 mila euro non dichiarati nascosti in un camion e pronti ad essere imbarcati per l'Albania è quanto scoperto al porto di Bari dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli A insospettire i finanzieri e i funzionari di Bari che hanno controllato il mezzo è stato il comportamento del conducente particolarmente irrequieto nonostante la documentazione del carico riportasse solo piastrelle e vino. Controlli più approfonditi condotti anche dalle unità cinofile antivaluta della finanza hanno però permesso di recuperare prima una mazzetta di banconote da 10 mila euro nascoste in un doppio fondo ricavato nell'area del cambio del camion in un cartone con bottiglie di vino sono stati poi scoperti gli altri contanti. La metà delle banconote recuperate oltre il limite di 10 mila euro pari circa a 76 mila euro sono state sottoposte a sequestro amministrativo per violazione delle normative valutarie riguardanti gli obblighi di dichiarazione doganale della trasporto di valuta. Ex Silva facciamo il punto. La valutazione dell'impatto sanitario dell'ex Silva sia obbligatoria e sia attuata entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo decreto del 18 gennaio. Lo chiede Lega Ambiente con due emendamenti presentati dopo l'audizione in nona commissione industria e in Senato. Le concentrazioni di benzene al quartiere Tamburi, lo rileva l'ARPA, aumentano nonostante la produzione, minimi storici, con 3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Per Lega Ambiente non è solo un campanello d'allarme ma una sirena che segnala un pericolo grave cui bisogna dare risposte immediate. La valutazione dell'impatto sanitario si deve dunque assolutamente prevedere. Non è una nostra invenzione, evidenzia Lega Ambiente. La legislazione italiana la prevede già per una serie di impianti come centrali termiche, grandi impianti di combustione, quelli di raffinazione, gassificazione, liquefazione e lo dice ancora la legge laddove sussista grave serio pericolo per la salute pubblica. Paradossale dunque, spiega l'Associazione Ambientalista, che non ci sia proprio per acciaierie d'Italia definito impianto di interesse strategico nazionale ma escluso dall'elenco degli impianti per i quali la valutazione di impatto sanitario è prevista nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Nel 2019 inoltre, in una prima sentenza di condanna del governo italiano, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'ILVA ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio, evidenziando inoltre l'omessa adozione di tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, condannando così di nuovo lo Stato per lo stesso motivo nel 2022. I trattori entrano anche a Cerignola, si allarga la protesta degli agricoltori. Non essere abbandonati nemmeno dallo Stato e di tutti gli agricoltori, di darci una mano. Lo Stato vi ha abbandonato voi dire? Ha abbandonato, l'agricoltura la sta ammazzando. È una battaglia di tutti, non solo dagli agricoltori. Il messaggio che viene dalla protesta di Cerignola è chiaro. Oltre un centinaio di trattori della zona ofantina del Fugiano per il corteo che dalla statale ha invaso il centro della città. Se noi non produciamo, voi non mangiate. Bello, chiaro e tondo. E vogliamo solo un po' di rispetto in tutti i sensi perché è duro. Come lavoro è duro e voi sapete a cosa si va incontro nell'agricoltura. Niente è sicuro. Più la manodopera, più la corrente elettrica che serve per l'irrigazione costa così tanto. Il gasolio che non si può proprio con gli arcisi alti. Il gasolio noi lo paghiamo un euro e vendi al litro. Un trattore che voi vedete qui consuma la bellezza di 40-50 litri a ora. Contro le politiche europee, l'eccessiva tassazione italiana, la concorrenza sleale è pericolosa delle importazioni. Prodotti che arrivano dall'Egitto, arrivano dalla Tunisia, arrivano dalla Spagna, Portogallo, che bensì loro non usano tutti i nostri fitofarmaci che usiamo noi oggi, ma usano ancora dei vecchi prodotti che noi usavamo 30 anni fa, 40 anni fa. Ancora una volta la palla passa al prefetto, portavoce presso il governo, della sofferenza agricola manifestata del resto in tutta la penisola. Siamo costretti ad abbandonare le aziende, chiudere tutto. Non possiamo lavorare più, non le possiamo più portare avanti le aziende. La protesta pacifica trova supporto generale. La voce del disagio economico è vibrante ed anche i più piccoli. Manifestano solidarietà e vicinanza. Che genere di lavoro a Potenza la Will incontra gli studenti del Liceo Galilei? Nuovo appuntamento del percorso che dallo scorso settembre la Will di Basilicata e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza hanno intrapreso nell'ambito del PCTO, l'ex progetto di alternanza scuola lavoro. Con l'occasione i rappresentanti della sigla sindacale, alla presenza tra gli altri della segretaria nazionale con delega alle pari opportunità e alla sicurezza sul lavoro, Ivana Veronese, hanno prima fatto un giro in alcune aule dell'istituto per vedere come i ragazzi svolgono il loro processo formativo nell'ambito tecnico-scientifico per poi partecipare ad un dibattito che ha avuto come tema principale le pari opportunità con un focus specifico sul campo lavorativo. Oggi cominceremo a parlare di benessere organizzativo, quindi partiremo anche dal benessere di una comunità scolastica per capire che ad esempio le discriminazioni che avvengono nelle comunità e anche nei luoghi di lavoro, come incidono poi queste nel benessere delle persone. Per dire che non si deve discriminare, si devono accettare le differenze e ci sono delle discriminazioni che riguardano in particolare le donne che sono le moleste, le moleste sessuali che avvengono nei luoghi di lavoro. Ancora di più oggi riflettiamo su quella che deve essere l'opportunità in questo caso data a tutti gli studenti e le studentesse. In questo caso si parla ovviamente di opportunità in più per il mondo femminile e noi sappiamo che in questo caso ci siamo e siamo con grande forza in sinergia con la Will ma soprattutto col mondo del lavoro. Credo che oggi è proprio questo il nostro intento, farlo diventare un momento di confronto ma soprattutto di riflessione dei giovani per l'evoluzione anche nel mondo del lavoro di problemi veramente molto molto preoccupanti. Il Carnevale storico di Aliano ieri sera protagonista al mercato centrale di Milano. Raccontiamo una tradizione promuovendo la Basilicata l'ha detto il sindaco Luigi De Lorenzo. Il fascino del Carnevale storico di Aliano conquista ovviamente l'Italia, lo ha fatto negli anni passati, lo fa anche quest'anno, tappa il mercato centrale di Milano. Allegria, energia, i colori del Carnevale e tanta voglia di festeggiare. Ma dopo il Carnevale storico in turno ai luoghi di Carlo Levi, Torino, Roma e Firenze, oggi siamo nuovamente, ritorniamo al mercato centrale di Milano grazie alla collaborazione di Umberto Montano, il presidente del gruppo Mercato Centrale Italiano che da sempre sostiene le nostre iniziative culturali, soprattutto il Carnevale storico di Aliano. Avete previsto ovviamente un momento di festa aprendo le porte del mercato e festeggiando con i colori del vostro Carnevale. Sono venuti in tanti da Aliano qui? Ma sono tantissimi da Aliano, circa 60 persone per portare questa nostra antica tradizione in Italia e non solo perché abbiamo dei progetti importanti per far conoscere ancora sempre di più questo Carnevale storico riconosciuto dal Ministero della Cultura dal 2016 su cui stiamo lavorando in maniera energica anche con dei laboratori per non disperdere l'accumulata tradizione del Carnevale alienese. Festival di Sanremo non solo musica al palafiori in vetrina, le eccellenze italiane, tra queste anche quelle del comune di San Severino Lucano. Il Festival di Sanremo non è solo musica, a casa Sanremo in vetrina tanti comuni di tutta Italia e anche quest'anno ritorna il comune di San Severino Lucano con tante proposte, soprattutto culinarie, che saranno presentate domani in un cookie show. Ma ci spiega tutto il sindaco proprio di San Severino Lucano, Franco Fiore. Innanzitutto al cooking show con la cuoca, Rossella Ciminelli, presentiamo un prodotto piatto tipico del Pollino La Polenta. Nello stesso tempo poi abbiamo Italia in vetrina, questo momento di talk in cui sarà messo in evidenza tutto il paesaggio del Pollino Lucano, il territorio del comune di San Severino Lucano e ci soffermeremo sugli aspetti storico-culturali della nostra area, sugli aspetti ambientali e naturalistici, facendo riferimento anche alla enogastronomia, a tutta la identità dei nostri luoghi, cercando anche di mettere in evidenza tutte quelle azioni che noi portiamo avanti per sviluppare turismo sostenibile in questo territorio del Pollino Lucano. In effetti è molto importante cercare di stimolare la gente ad avere un contatto diretto con la natura, un turismo lento. Tra l'altro stiamo cercando anche di portare avanti forme di turismo delle radici, cercando di richiamare gente che si è trasferita dai nostri luoghi in paesi esteri di tutto il mondo e cerchiamo di richiamare gli stessi a ritornare a visitare i loro luoghi di origine, portando avanti anche un progetto con altri comuni che riguarda i sentieri del benessere. E ora un appuntamento da ricordare. Si avvicina il giorno della consacrazione per Monsignor Colaiani a Matera, sabato prossimo nel palazzetto della città dei Sassi alle ore 16 e in diretta tra l'altro su TRM Network. Tra le tappe preparatorie la celebrazione del Triduo nella parrocchia di San Giacomo. Si conclude oggi alle 18.30 con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, Arcivescovo di Matera Irsina e Vescovo di Tricarico. Nei giorni scorsi invece le celebrazioni sono state presiedute da Monsignor Giuseppe Russo, Vescovo di Altamura Gravina e Acquaviva delle Fonti e da Monsignor Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.